Buonasera a tutti ragazzi e bentrovati qui su Malati per le cripto. Intanto vi auguro a tutti un buon anno, spero che siano state piacevoli le feste appena passate e torniamo subito a parlare di grafici, di bitcoin, di criptovalute per capire un po' quella che è la tendenza del momento, per cercare di avere una chiara visione del mercato senza essere schiacciati dalla emotività. Come al solito non sono consigli finanziari ma partiamo subito con SushiSwap in ordine, non di importanza ma semplicemente in ordine di analisi, partiamo appunto con Sushi che ha dimostrato voglia di provare a ripartire quando si è trovato in zona 5,50, 5,20 grosso modo, ecco qui candele importanti di ripartenza che però ancora fanno fatica a dimostrare la totale inversione del trend. Siamo ancora in una fase fondamentalmente ribassista sul medio lungo, mentre il breve è ancora entusiasmante perché comunque ha permesso di sviluppare delle performance davvero interessanti, parliamo di picchi di 102%, quindi un'ottima performance da parte di SushiSwap. Per quello che riguarda la fase attuale attenderei una configurazione più idonea per definire completamente ripartita la fase di rialzista anche sul medio lungo periodo. Vista SushiSwap andiamo subito a fare la cancellazione della suddetta, andiamo a scoprire invece chi sta performando molto bene ovvero IR Finance. Si parla di problemi risolti alla blockchain al sistema, c'era un'indicazione molto interessante perché il mercato sembrava ancora fortemente orientata di basso, invece questa candela che poteva sancire un ulteriore crollo da parte di IR Finance è stata completamente riassorbita ed il trend sembra ben indirizzato a rialzo in questa fase attuale. Vediamo come il lavoro da parte di IR Finance sia ancora da definire incerto perché attendiamo uno storno importante per poi eventualmente cavalcare il trend a rialzo. Momentaneamente c'è da dire che però siamo in ottime mani perché sull'ottica di breve periodo è assolutamente entusiasmante anche questo mercato. Ovviamente ho scelto l'idea di crypto con indicazioni e trend più positivi e ovviamente parliamo anche di Bitcoin perché non possiamo d'ascurarlo cercando di capire un po' la fase attuale e vedere quando e come potersi comportare. Come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto ed a scaricarvi gratuitamente, quindi a partecipare al corso che è presente sul sito fabrizioferri.it, cliccando semplicemente su guarda il corso, quindi iscriviti al canale, o meglio al sito, potrai guardarlo comodamente ogni volta che vorrai. Oltre al corso c'è anche un ebook completamente gratuito esclusivo per tutti i malati per le crypto. Vi ricordo al sito fabrizioferri.it c'è il link in descrizione. Andiamo avanti, parliamo di, visto gli alfans, vediamo la cripto che sta performando molto bene, finalmente è riuscita a imporsi nuovamente la tendenza rialzista. Parliamo di phantom, mercato molto interessante, letture, devo dire oggettivamente semplici, pullback ci sono stati senza troppi giri di trade. E devo dire che il trend è molto buono, mi piace molto, vedere la 267 potrebbe indirizzare su noi massimi storici questa cripto che è stata e che è assolutamente molto spinta da tanti appassionati in questo universo. Io sinceramente, sapete che non sono un tecnico a 360 gradi perché non sono un fondamentalista, su molte cripto non so oggettivamente cosa facciano di preciso, a me piace lavorare sul trend e in questo caso il trend è assolutamente positivo sia in termini di lungo periodo che in termini di breve. Perciò attenzione ai punti d'ingresso e sicuramente saprete come gestire la vostra operatività. Abbiamo visto phantom, passiamo ad un'altra cripto molto richiesta e molto trattata in questi giorni, ovvero curve down. Eccola qua, performance incredibili. Allo storno dell'altro giorno è ovviamente succeduto un ulteriore imponente rialzo, riapre il lunedì con ancora spunti rialzisti molto forti per quello che riguarda Curve, assolutamente tende rialzista, quindi cerchiamo di capire un po' come comportarci in ottica di lungo, attenzione a tentare magari sui 6,30, 6,40 perché potrebbe essere forse, magari mi sbaglio, ma forse un pochino troppo tardi, quindi cerchiamo di capire un po' come gestire al meglio la nostra operatività. Visto Curve down, vediamo un'altra cripto che sta andando molto forte in termini di performance, ovvero secret, eccola qua, ci abbiamo imbused, eccola qui. Allora, trend di base sul medio lungo comunque ribassista, però abbiamo visto nelle ultime settimane quanto è stata forte la spinta rialzo, quindi un gioco importante per quello che riguarda l'ottica di breve. Ora vediamo se avrà forza di rompere quanto meno i 7,50 per proseguire in un trend rialzista che potrebbe riprendere il largo, quindi attenzione che questa è una cripto molto molto interessante e bisogna stargli appresso. Il trend di breve rimane fortemente rialzista. Una cripto che non sta andando al massimo in questo periodo, che però non possiamo mai trascurare, è The Sandbox, eccola qui. Praticamente stiamo in una fase in cui il metaverso sta iniziando a spingere forte, gli NFT sono molto lanciati e in questo caso, ecco, storni che non impressionano più di tanto, un mercato che sta andando molto molto forte, ancora in ottica rialzista di lungo periodo. Su breve un po' di debolezza, però sinceramente adesso non preoccupa affatto. Andiamo a vedere Polkadot, eccola qui, .usdt, performance ancora in fase di incertezza, questo storno ovviamente è una vecchia analisi, possiamo anche ripulirla. Andiamo a sistemarci un pochino la grafica. Mercato che non offre ancora grossissimi spunti a rialzo, anche se sull'ottica di maglio lungo, per me c'è ancora da sbilanciarsi un po' in chiave rialzista. Aspettiamo l'eventuale prosecuzione sopra queste quote per dire, ok, potremmo ripartire in ottica di maglio lungo, il trend ribassista al momento è ancora forte, in ottica invece di trend di breve c'è un po' di incertezza. Secondo me sopra i 34 dollari iniziamo ad avere un po' più chiari le idee. Momentaneamente io personalmente sto alla finestra senza sbilanciarmi, perché comunque è un mercato che non mi sta esprimendo il massimo del suo potenziale. Vista DOT andiamo a vederci Atom e poi concludiamo con Bitcoin. Eccola qui, anche Atom che ha offerto delle ottime performance nelle ultime ore. Vedete come ha toccato i miei target in maniera proprio allucinante, molto bene. Questa è la mia vecchia analisi per la classe che porto avanti tutte le settimane con i miei ragazzi del percorso scuola. Ed eccoci qua con un ottimo, ottimo, ottimo lavoro. Dopo aver rotto ed invertito definitivamente il trend, siamo ripartiti a rialzo anche su Atom. Vediamo se avrà debolezza adeguata prima di proseguire la corsa a rialzo o se romperà questi livelli senza sosta. Quindi cercando di andare ad accumulare nuovi massimi importanti. Devo dire un mercato molto interessante, molto tecnico. Quindi stiamoci addosso, cerchiamo di capire un po' quella che potrà essere la dinamica. In chiave di medio lungo comunque rimane positivissima, in chiave di breve ovviamente ancora meglio. Concludiamo queste analisi con Bitcoin, come dicevo prima. Bitcoin che sta, stamattina ho fatto quella mia analisi sul grafico giornaliero. L'ho messa sulla pagina, sui gruppi Telegram, che vi consiglio ovviamente di scoprire anch'essi, perché saranno molto interessanti, sempre molto attivi. Pubblico lì sia i video che le analisi grafiche. Quindi ecco per chi fosse amante delle notizie in real time, ecco è importante iscriversi al gruppo Malati per le cripto anche su Telegram. Comunque, trend di medio lungo ancora. Allora, sul lunghissimo sicuramente non viene scalfita la direzionalità rialzista. Sul medio però c'è ancora un po' di debolezza, perciò aspettiamo quantomeno una reale voglia di invertire a rialzo, che ancora non c'è. Quando ha provato a rompere sopra i 50.000 l'ha fatto per pochissimo tempo, infatti poi la settimana è stata conclusa sotto quella quota lì. Ora cerchiamo di capire se ci sarà davvero interesse a spingersi fortemente a rialzo. Siamo tutti in attesa, Bitcoin ancora bloccato e di conseguenza non possiamo fare altro che attenerci alle regole, ovvero lavorare in funzione del trend. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio, vi auguro una buona serata, ci vediamo domani in diretta, ore come al solito il martedì 18.30 per la live, a cui non potete assolutamente mancare. Quindi ci vediamo domani, mi raccomando, come al solito iscrivetevi a tutti i profili social, Instagram, Telegram e Facebook. Ciao a tutti, grazie ancora e buona serata. Ah, mi raccomando, andatevi a vedere il corso esclusivamente fatto per voi, con ebook integrato, link fabrizioferri.it, trovate subito il corso gratuito. Ciao a tutti! Grazie a tutti!